dai da due simon così sono da due quindi ve lo facciamo ve lo facciamo sono amaro questi sopra, sopra daimon, hai oto mi qua? hai? hai oto mi qua? dove sei? qua giù arrivo, arrivo non lo la arma non lo la arma non lo facciamo ok si si no 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 va Simon va vabbag Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando C'è qualcuno? Siamo tutti qui Tutti qui No c'è un nemico lì Aspetta Sto arrivando Sto arrivando Sì 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 subito Sto arrivando 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 Allora andiamo lì Dov'è? Ok Perché usciamo da giù là Sì, signor, andiamo piedi Ora in giù là Ecco Non c'è benzina Cambia, cambia, ma che ne Non c'è qualcuno Non c'è qualcuno Sì, sì Sì, siamo prendi un momento di piede Ok Asa è dolce a cittì Mamma, dolce a cittì E dolce a cittì Ah, sniper Sono sniper Ah, sniper Allora dove andiamo? E maniamo dentro Però E non c'è No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ti piace quello no? mamma che è lento? dai qualcuno qua e da lì facciamo jump qua siamo 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 mamma mia è rimasto sotto hai visto? ah l'ho visto qui? dove? dove stai? qua 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 ah non c'è qui ah l'atto è lì Simon? eh dimmi va qua arrivo 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 sono tutti qua raga? è qualcuno qua eh? non usare i bobar quello non usare i shotgun bobar troppo lontano si è meglio di no è lì 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 lì è lì è lì andiamo dentro andiamo dentro andiamo dentro andiamo dentro come puoi c'è qualcuno lì eh fate attenzione eh sei fuori no sto volando andiamo andiamo sei fuori si si bevo visto andiamo andiamo e ne ne sai eh va sopra così ma mi sembra vicino io vediamo vediamo di qua io no io no 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 io no 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 io no 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 io no 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 simon i don't gotta i don't know qui se se si è lì c'è anche, è lì c'è sopra qualcuno che sta mandando oh cazzo mi stai sparando mamma mia c'è qualcuno sopra è lì c'è qualcuno sopra mamma mia non sta facendo questo casino scappate non riesco 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 ma ora sopra Quattro guardi? ho messo prendi Simons prendi tu ok ho messo 2% come questo 3% ma che avete aver abbiamo quasi si ma avete aver detto non avete qualcosa altro non avete è una sola mi dai per favore un po' è uno solo ok ok io non so come si faccia qual'è che ti serve? è quello medio ma basta medio ah quello ha arma non so dove si fa c'è qua questo sistema ti è preso? si l'ho preso io però che non mi dà le armi non deve dare lui eh dici lui che vieni qua schiacci in sinistra e lì c'è un segno di ritornare dove? no schiacci in sinistra quello quattro bottone di direzione sinistra schiacci in sinistra e lì c'è un segno di ritornare ma sono un dio? si si uno mio uno si siamo fuori dobbiamo andare in giangla andiamo 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 mamma mamma mia trova la vita non non aspettare non 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 lontano no vicino si è simon porti qua no non ce lo fa prendete prendetemi arma prendetemi arma prendetemi arma e vita e la vita bobar solo che la speranza e lì c'è qualcuno hanno visto che ho le no 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 no